Un dato positivo, uno negativo. Agli oltre 20 milioni di euro che ANAS spenderà nel tunnel delle ferriere si contrappongono i disagi al traffico che si cercherà di mitigare in tutti i modi. È la sintesi del vertice con ANAS a cui hanno partecipato Città Metropolitana, i sindaci e le associazioni di settore. Sono state espresse diverse posizioni e preoccupazioni. Dobbiamo cercare di fare sintesi e abbiamo rimandato a un tavolo tecnico per cercare appunto di ridurre quelli che sono i disagi, quello che ha l'impatto sul territorio. La richiesta di un senso alternato di marcia per evitare chiusure per ora non è stata accolta, ma ci sarà spazio per entrare nei dettagli nei prossimi incontri. È proprio questo che il tavolo tecnico deve andare a chiarire. Noi pensiamo che la galleria debba rimanere aperta quantomeno più possibile ed evitare lunghe chiusure, anzi se è possibile evitarli, quantomeno negli orari di lavoro, quindi quando i pendolari si spostano. Di sicuro il cantiere non partirà a gennaio. Prima c'è da finire i lavori al ponte di Traso e realizzare gli interventi preparatori sulla provinciale 77. Su questo sono previsti dei lavori da parte di Città Metropolitana per rifacimento di pavimentazioni. C'è la disponibilità di ANAS a intervenire sulla stessa per ulteriori lavori di miglioramento dell'infrastruttura. Noi siamo pronti a intervenire nelle prossime settimane. Le associazioni che rappresentano le attività produttive hanno chiesto ristori per le aziende e un coordinamento con autostrade per mitigare i disagi na 12 quando il bypass della Fontana Buona sarà chiuso. Chiesta anche la realizzazione di una piazzola attrezzata per l'elisoccorso per tutta la durata dei lavori. Sicuramente è una richiesta sensata che penso possa trovare accoglienza.